no io proprio una pulizia della mappa non sono fatto ma ce l'ho tutta chiara quindi per quello l'ho fatto questo sembra un po tipo crisi crisi group poverino fai da cazzo mi spiace un po blu l'ho fatto io mi diverto a prenderlo in culo ma che ma che condizioni ha portabilità bruttissima per me ecco c'è uno non so c'ho giocato mai con fede si gioca molto spesso per carità molto spesso per vedere i tasti tu devi sempre cambiarlo una volta si è trovato io oppure ancora da ci riesco ah Non lo so, non andare a pescarti Vabbè, che il pompa oro si, o lo trovi oppure te lo puoi pure fare, però devi bruciare un sacco di materiali Eh, lo vabbè, va a fare Dove a fare? Eh? Dov'è che lo puoi fare? Eh, ci sono delle macchinette che tipo che tu tramite i materiali le armi che hai, te le passi, gli fai l'upgrade Sì, dalla common a uncommon, un po' irari, che così Però devi finire tutti i cosi, cioè tutti i materiali che puoi fare Si consuma tipo dal verde al blue, consuma 150 per ognuno Non è che ti chiedi da un modato, tutti i tre Eh, poi, no, dal verde al blue serve 250 di ogni materiale Ah, forse è il blu e il viola, scusa Sì, chiedi da 150 perché l'ho visto prima Allora, io vado un po' a pesca Vediamo un po' che si mette Tanto le armi ce le ho E siamo arrivati a 50 Questa medaglia di volta del che rimane 50 Ma è un po' fastidio questo qua Ma è che tu lo pesca Bisogna correre qua se sei lontano Non c'è modo di arrivare prima, sì, guarda Oh, ci sono i pesciolini Danno un sacco di vita Sì, ti danno 50 di vita Sì, i verdi Poi ci saranno anche i pesciolini Sì, quelli verdi Poi ci saranno anche le slurp Quello mi ha fatto, mi ha veramente sorpreso Se non è che lui le... Le da un po' un pesce Ah, vedi, Andre, questa macchinetta qua è quella che ti fa lo upgrade Non è che è così Poco fa Ma l'ho messa, l'ho messa poco fa Ma invece c'è spogli e mi vedete voi PROVA Quelli piccoli o quelli grandi? quelli grandi con le grandi è impossibile proprio piccolare con le grandi distruggi che stile il fiero il solito trovi armi e munizioni dentro comunque c'è il tuo mito che stai in munizioni poi ti puoi anche nascondere nel fieno nel fieno nei cassonetti dell'impostizio nella casa qua davanti sembrava si c'è qua hanno notato delle città vecchi cos'è che è rimasto saldi? ah questo è Borco Bistela clean center e retail si chiamano tutti uguali proprio corso commercio qua è retail ah ah si si adesso prendo questo e basta gli altri sono tutti diversi cioè sono diversi alcuni sono vabbè tipo assomigliano come non attirare l'attenzione? fai saltare io dovevo provare eccoli la si ho visto uno sparo eaaaa l'avevo quasi fatto io ho pochi colpi in mezzo eccoli la che cosa? che cosa? questo è scemo il nostro? non mi avvicinata? si si sto arrivando è che ogni tanto mi rallento mi rallento mi rallento per mirare capito? mi rallento che provo la cecchinata a volte che cosa? uno l'ho fatto cadere ok no cado ho finito il colpimento ho finito il colpimento uno per colpimento c'è il del porto io non ti vedo ah sei proprio lassù ciao bello vabbè il colpimento credo adesso non ti sarò c'è tutto avevano un medicaid per caso ho scoperto qualcosa ce l'ho io ce l'ho io il medicaid occhio non ho capito dove hanno sparato non ho capito non ho capito non ho capito credo da nord est perché avevo costruito un muro verso est ed è danneggiato presumo nord est si è partito il colpimento mi sentito chi è vero andai a ah ecco qua il bello è che ma le cure si trovano che una bellezza qua c'è anche un palo c'è un po' sparo io ma che ho preso un po' di io tengo cioè voi state tenendomi le scuole per favore no no io ho tre medici ok ok io volevo capire questo qua che sparava dove era volevo andare a fare subito io il pass l'ho preso ma le skin non è che mi fanno impazzire io ho preso principali io sono carine ma che sono carine ma ah per le quello è il vaticico è fenomenale occhio sti gespuglia io ho paura di sti gespuglia è come il fieno capito il fieno di fatal si che la si può entrare tra la mente era un lancio a granate per scolta si vi servono colpi lancio a granate ne ho io ti servono? no no io no ma è che ho sentito tipo lancio a granate oh oh da dietro da dietro sono da ovest che cosa sta mi ha dato il cazzo quello che parte è la seguita che ho incontrato Io ne avevo uno sopra di me ragazzi Non so dove cazzo Mi giuro che non li farò capire sul rumore cazzo C'è sempre quello sopra di me Attenti che mi spara No no questo qua bianco è qui ce l'ho io No c'è uno sopra di me Ma non so dove cazzo Mi ha rotto il cazzo Dall'altra torre Però c'è qualcun altro Ah ecco c'è Arriba un altro team da là Uno nel c'è spoglio Occhio Occhio che arriva l'altra team ragazzi Sta arrivando Uno noccato Attenti Attenti Sì cazzo c'era una trappola qua Arrivo da te Sì ok ok Qui c'è la trappola Dov'è la trappola? Sotto tutti te Ho i mini scudi Ho il medicate A me serve uno scudi e basta Ma ce ne sono pure là Treva la safe Faccio un po' b Basilah No no ce li ho Avete razzi? Eh, sì Quanti ne vuoi? Eh, sì Sono 12 Il limite è di solito, sì Hai lanciagranate? Lanciarà, sì Vabbè, non so quanto hai vedi Sì, sì, il massimo si è 12 Perfetto, grazie Quanti ne sono rimasti due team, raga Eccoli, là Stanno andando nel fieno È andato nel fieno È andato là Ok E ne ha anche la costruzione di là in fondo E costruzione è anche di là Andiamo solo, fieno Hanno restato Eh, là ce l'ho restato Eh, non so Ah, è qua Ah, sono là, eh È qua, è rest Sono là, in due Minchia Che cazzo di cazzo Di fucile Quale, il mio? Sì È il cecco viola Però Ah, Andre, la sapevi questa Guardami Andre Eh, non ti vedo Sotto di te Sotto di te Sono dentro alla paglia Ah, non lo so Ti puoi nascondere stili Stire il coso Ti puoi nascondere E poi esci fuori di colpo Mi sapete cos'è? Paglia e cestini? Paglia si è cestini Io mi sto visionando nel fieno Perché se li vedo li scassano Ah, sono tutti là No, questo è arrestato perché il res è nel fieno, capito? Sì, sì, ma ormai è andato Ed è scappato nella casa quella grana Ah, sono laggiù Sì, sono tutti là Ah, l'avete visto nel mattone sono No, tranne due che sono lì ad ovest dietro Uno è uscito Aspetta che è da qua Io se li vedo li scasso Occhio, Rangie Guarda che sei scoperto da questi dalla casa Ok Uno l'ha eliminato comunque là in fondo Io li vedo quelli in casa Sono al piano sopra Verso la sinistra della casa Sono in due Sol Lasciamoli Subito Sì, occhio a sinistra Cento di scudo Ok, guardate, l'ho finito Guarda speciale Sol Ah, erano gli ultimi? Ed ecco poi l'ombrellino Della sosa Uno Del capitolo Carino però dai come Ombrellino Solo che si sente stabili Cosa ti fa venire voglia di andare a fare pipì Sì, secondo te adesso che hanno messo il suono sotto l'acqua E in più anche uno muore assurdo quando scendi L'umore assurdo è ci sta, cazzo Buttiti da un bus Sta cosa qua Dove siamo attrati adesso Sembra Vi ricordate quando c'era l'evento di Halloween La casetta di cappuccetto rosso là Tipo nel posto Oh, è vero Però rifatta nuova E quella parte di mappa là L'ho willing Sì, l'hanno Cioè, sempre quella però l'hanno slargata Ma avete visto se c'era qualcun altro? Anche la torre che c'era Quella lì di legno È la stessa solamente che Invece di essere Cos'era? Un 2x2 È un 4x4 questo Quello sì, era un 2x2 Lì c'è per potenziare C'è qualcuno Mi frega un cazzo C'è il rumore dei Klaxo Rimangono lo stesso Comunque io avevo visto qualcuno Che arrivava in coro Ma io ho chiesto se c'era qualcuno Cioè, a me ne era sembrato di vedere E devo provare a pescare Andavo a buttare a cazzo o dove vedo le macchie? Allora, dovrei buttare a dove cazzo ti pare Però c'è un lombù Nell'oggi che si vedi nell'acqua Quelle increspature Eh, infatti C'è più probabilità che peschi roba buona Se no ti trovi qui pesciolini del cazzo Non devo aspettare No, no, sì Ma non c'è una cipata Ma non c'è una cipata di buona Quella è solo un'increspatura Che non c'entra niente Ecco adesso Se lo fai con i pesci che vedi in giro Ti danno buona roba Io ho preso il tiro e l'ho fatto La prima arma che mi ha fatto è stato Figa Ti fotto la pesca Ragazzi, c'è il coso che è Che è micidiale l'ogga Prima nella partita che abbiamo vinto Io l'ho fatto tutti l'assurdo Ma non ho bocca a nessuno Eh, con la corrente con il cibo Eh, ci vuole un po' Se non c'è una increspatura Ci impiega un pelo di più E' più difficile trovare roba buona Esatto Io ho un mini scudo Tipo, io ho preso un pesciolino bianco Che bello Non so quanto dia quel pesciolino Quello bianco 25 Cos'è, cos'è questa? Lattina rucina Quella la puoi lanciare La puoi tirare E niente di più Uff, dammi, 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 dammi La pistolina Ah, scusa Vedi qua? Ma te la lancio io la lattina Do, la lancio in testa Ho capito che vuole la pistola Do, ti lascio il pesci Sai che se usi la canna da pesca Tu mi accompagno lo tiri con te Vabbè, che fa? Che fa? È tipo un rampino Stai a vedere? Sperio? Fammi vedere Uffè, figata E il pesciolino che cosa fa? È da 50 di vita quello lì Stai fermo, un attimo, sta fermo, Andre Quasi instant Mi porta il 75 di vita Davvero? No, non toto a sede Che cazzo Stiamo andando alla parte Un po' Sì, già, vedrà Comunque il coso di poter spostare La gente è noccata Oh, il pesciolino non l'ho portato Quello rosso Che l'ha figgato? L'ho figgato io Ma nessuno se l'ha inculato Dov'è? Non lo prendo io, minuto Prima mi ha salvato Mi siete a tenere lì? Sì, sì, sì E tu posso farlo Perchè, se c'è Eh, c'è un altro Fa Che ho il pesciolino dietro Il pesciolino E ti recupera 50 HP Quattro Minchia Eh, posso prenderne un altro Di cilindino, non di più È uno è uno è uno, eh, minchia ragazzi? io ho visto delle costruzioni tanti si, ci sono delle costruzioni la però qua c'erano delle costruzioni vado a pescare tanto non mi sparano a casa c'è anche qua un'altra costruzione per pescare oh a lesbica ti pesco prima io che se hai altri pesciolini te li metti direttamente ma dove fai questi prima tu? ma che cazzo ne so? sei un bravissimo no, ma ha confuso la tua eh, per quello comunque pesciolini questi qua rossi che proprio bello io sto io sto perdendo con la merda io sto perdendo con la merda io sto perdendo con la merda sono André qua a saposchetti a borgo mi sa ti ho preso? basta si stanno sparando provandola su perchè sta sparando a voi? se vi sparate o meno si spara... si spara di loro si stanno fiatando merda che sei E poi fatti i coglioni con la canna da pesca No io non sto Allora c'è una notizia laggiù in fondo Non era la canna da pesca Sono io che li sto tirando le lattine Quelli di là hanno il bazooka Eccolo 20 E se pigli il nemico con la canna da pesca che succede? Lo tiri in tabbo E' tipo rampino 19 bianco Io sto parlando con la lattina Merda uno qua sotto Sì Andi mi dai una mano a te Sì tanto stavo E' sceso Era molto Vai Toccato uno Raga Mi è noccato uno No Oh raga Ma fa vita solo io Stavo qua stavo qua stavo portando stavo portando quello d'oro io voglio il pompa d'oro stavo portando il nemico in safe venite qua io adesso mi la porto a poi medica mi potete restare che sono medica anche per te avete shieldini? eh io si sono 6 io tanto sono a posto mi sono caricato in spalla e non ho cattato o c'è gente qua giù dopo tu resta forti lasciami il pompa butta il pompa e il colpo no 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 dam il verde, dai vai tranquilla a me è stato perchè se ti giri no non devo entrare nel premuto ma non mi sono mica girato avete ragione? si è il medikit perchè? è per me scusa tieni ok la safe serve materiale ehm io ho fatto tante ne ho un po' ehm si ma lo matriamo in safe intanto ne ho 127 e due muri mici dove erano? no perchè mi si stoccare in mano? ha tirato una lagata incredibile sono insolata sono insolata gente brutta? si tutto va mi serve una mitraglietta mi serve una mitraglietta mi serve una mitraglietta mi serve una mitraglietta ma la c'è gente pure eh esatto lo so io da lontano non vi posso dare eh c'è un tizio là solo range gira tu sulla destra c'è un tizio che ti punta eh c'è il tizio che ti punta ok 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 no controcorrente no a no 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 mi servono le armi ah ok scusate non ho manco colpi ne ho io vieni da me dai che ti do sotto vieni safe ma se tu non butti danno al tesa in teoria prende danno ma non ci sono manco più fallo vero si ci sono no è finis mi servono quelli piccoli vieni qua c'è gente brutta c'è gente brutta c'è gente vieni e io ragazzi devo noti con shieldare perché non so ah ah ha preso la trappola è proprio se c'è una trappola è proprio se c'è un'altra squadra se c'è un'altra squadra un'altra squadra è che è un'altra squadra morirà accade poco Oh 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 Dai Meno male che podo c'è Meno male che podo c'è Ragazzi è un cazzo di cittino Tieni Tieni Dai lì si città Dai lì si città Te ne basta uno? Eh per ora si va Eeeh Avete colpi pompa? Si posso darti lì A che serve materiale che sono fuori? Oh su quella montagna raga Raga Porco porco Qui c'è 90 razzi fermi nell'aria vabbè che c'è fa Raga se volete materiale No io sto a posto Ombra E' lì E' lì No la mia pistola C'è la pistola veramente una pistolina? Si e lui piace salto La pistola viola Ma è finissima Sono andata via Si stanno andata a destra Vanno verso il ponte No sono scesi Ma questi li dobbiamo scassare se scappano Ragazzi se questi qua veramente scappano con l'airground c'è C'è una trota Che c'è una trota? Eh stava zompando stile una trota La carpe E' carpe diegna vai Guardi un attimo No Ma sti veglia di puttana Ma sti veglia di puttana Mi ha fatto ciuppare male no no uno è là è bianco è sotto dietro boh io lo trovo troppo sano una qua giusta dove sono io ma ce n'era uno anche qua però mi sa che si è fermato eccolo sulla destra tanto bianco no io l'ho visto nero io faccio cadere tutto no l'ho fatto e non c'è neanche uno no non mi ho potuto spawnare quanti ne sono rimasti siamo noi tre contro altri tre avete razzi cerchiamoli razzi 2 devo aumentare la velocità quando costruisco è troppo lento devi fare quella cosa che ho detto io andre e ti rinamalizza il gioco l'ho messa l'ho messa no no nero qual'è che sarebbe sta roba che avevi detto te? non mi ricordo nemmeno dietro dove? ma sta laggando atterrato è l'ultimo, è l'ora, è troppo che altro partito è la, è la non è l'ultimo, ci sono altre due pure il nocato esatto ah ok ma non sempre è l'ultimo